Le 23.32 i nostri aggiornamenti. Buonasera dal TG1. Salgono ancora i nuovi contagi. Oggi sono 1.462 con un numero record di tamponi poco più di 97.000. 9 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Intanto per la prima volta dalla fine della fase acuta dell'epidemia un focolaio di coronavirus è stato individuato all'interno di una residenza per anziani a Milano. 22 i positivi tra ospiti e dipendenti della struttura. Scattato il piano di isolamento. Verso la riapertura della scuola la conferenza Stato-Regioni allargata agli antilocali approva all'unanimità il documento sulla gestione di eventuali casi covid in classe. Possibile l'intesa anche sul nodo trasporti dai territori la richiesta di risorse e strumenti per aumentare la capienza degli autobus che potrebbero coprire fino all'80% dei posti. Lunedì nuova riunione. In Francia peggiora ancora la situazione dei contagi. Oggi c'è stata un'ulteriore impennata con 7.300 positivi. Il presidente Macron non esclude un nuovo lockdown. Stati Uniti. La protesta degli afroamericani si riversa nelle strade di Washington per la marcia che ricorda il leggendario discorso di Martin Luther King di 57 anni fa. Allora l'appello per la fine delle discriminazioni e della segregazione razziale. oggi la richiesta di giustizia per i troppi casi di violenza da parte della polizia. Blitz della capitaneria di Porto sulla spettacolare scala dei turchi di Porto Empedocle nell'Agrigentino chiusa per rischio crolli. Mille euro di multa e denunce penali per violazione dei sigilli. Ai turisti che saltando le recinzioni si erano sdraiati al sole. Ed è tutto. Il Tg1 torna domani mattina. Vi lascio ai programmi della rete. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.